Open Care è un progetto europeo di cui fanno parte il Comune di Milano e il Fab Labuimake, insieme ad una rete di partner europei. È un progetto di ricerca su nuovi modi per trovare soluzioni a ostacoli piccoli o grandi che ognuno di noi si trova ad affrontare nel quotidiano. Il nostro obiettivo è sperimentare un nuovo modo di affrontare la cura e il benessere dei cittadini. Open Care mette a disposizione spazi virtuali e fisici in cui è possibile il confronto tra persone su difficoltà e soluzioni. Raccontare la propria storia, esprimere i propri bisogni, identificare possibili ostacoli al nostro benessere è il primo passo. Il secondo è cercare di capire come risolverli, inventandosi qualcosa che ancora non c'è oppure che esiste ma andrebbe modificato. A Milano stiamo incontrando diversi gruppi di cittadini per migliorare la propria vita in termini di autonomia, relazioni, piccoli accorgimenti che potrebbero fare la differenza. Open Care prototipa, costruisce le soluzioni pensate collettivamente, le testa e le mette a disposizione su internet per poterle riprodurre. Questo è possibile grazie a laboratori condivisi, a spazi aperti di confronto online, a tecnologie open, a comunità di maker e hacker. Non proponiamo soluzioni, le troviamo insieme ai cittadini. Per questo stiamo cercando persone disposte a mettersi in gioco, pronte a sperimentare nuovi modelli di cittadinanza. Open Care, la cura parte dalla tua comunità.